Ragazzi buongiorno, sabato 21 marzo, questa è la continuazione del video cronaca di un disastro annunciato, di un'apocalisse annunciata. Mi sono dovuto scrivere un po' di cose perché non sono pratico di video su youtube e evidentemente mi manca quella che è la capacità di tanti, io sono un uomo della strada, sono una persona di esperienza, non sono un tecnico di queste cose, però perché ho perso la pazienza? Ho perso la pazienza perché veramente vedo un futuro incerto per essere ottimista, certamente molto diverso da quello di prima, quindi dobbiamo intervenire subito, quindi dicevo nel video precedente non è un caso che ci sono dei soggetti a governare l'Europa in generale, ma se vogliamo parlare dell'Italia ci sono gli utili inutili, nel senso che sono utili al raggiungimento di uno scopo già prefissato, però inutili perché non serviranno all'Italia, che cos'è il governo di un paese? Il buon padre di famiglia, questa è una frase che dirò spesso nei miei video e vi faccio una parentesi un attimo perché mi dimentico sempre non essendo capaci di fare queste cose, se vi piacciono questi video mettete un like e soprattutto condividete, condividete perché dobbiamo essere quanto più possibili a sapere la verità. Come vedrete io ho delle idee, non vivo di ideologie, chiaramente ho delle mie idee, però le mie informazioni non sono solo da un punto di vista politico, ossia non leggo solo libero la verità o il fatto quotidiano o il foglio, mi informo di tutto e fra poco vi dirò più di qualche cosa ecco anche perché ho dovuto fare il secondo video. Quindi questi utili inutili, dicevo, che sono per il raggiungimento del disastro, dell'apocalisse, perché l'apocalisse è il covid, probabilmente però è l'antipasto, ancora ci devono preparare il piatto forte e il dolce. Il piatto forte sarà l'impoverimento di tutti gli italiani, se non di tante persone del mondo e la riduzione a schiavitù. Per raggiungere questi obiettivi non a caso o quantomeno per me non a caso ci sono anche in Europa due soggetti, David Sassoli e il signor Gentiloni, del quale non ricordo qualche provvedimento particolare nel suo governo o un merito particolare. Ora l'Italia vive di una paura di ritornare nel fascismo, però non ha capito che la mancanza della libertà, la libertà, la libertà di pensare, la libertà di votare, la democrazia che hanno organizzato i greci e che noi abbiamo saputo utilizzare male. La democrazia ha dei limiti, però se dobbiamo mettere sul piatto della bilancia io la preferisco sicuramente, penso la gran parte di voi, a una situazione totalitaria. Noi dobbiamo avere la possibilità di dire non mi sta piacendo quello che state facendo, non dobbiamo essere come quei poverini dei cinesi che sono stati obbligati a togliersi la mascherina e a fare il sorrisino per il video di rappresentanza. Conosco le situazioni a Cuba, conosco le situazioni in Venezuela, so di che cosa sto parlando. La gente che viene per fame, perché gli si promette il lavoro, si dà una casa, si dà un'agevolazione qualsiasi, perché quando siamo deboli va bene tutto. Io voglio la possibilità, la libertà di dire non mi piace. Non è un caso, dicevo, che ci sono questi due soggetti in Europa. Quando una persona alla quale io rivolgo una grande simpatia, ma non una simpatia personale, un modo empatico di relazionarsi nei confronti delle persone, perché ho capito una cosa nel quasi 60 anni di vita, ho fatto il venditore e devo fare un'analisi psicologica delle persone. Se stanno mentendo, la gran parte delle volte me ne accorgo. Beh, Giorgia Meloni si è stupita del comportamento della Lagarde e ha chiesto la rimozione. Beh, come lei stessa ha notato, la Christine Lagarde ha un curriculum che, se lo scriviamo, serve non un rotolo scottex di quelli della carta igienica, serve un rotolo di quelli industriali, per cui permettetemi di pensare che è tutto stato fatto apposta. Perché? Quando io sono il manovratore della situazione, e parliamo chiaramente della Lagarde, se ne è vista proprio poco bene, sono stati persi miliardi, non vi so dire centinaia, migliaia di miliardi, la settimana scorsa con il meno 16%, il giorno dopo più 12%, beh, se io so che cosa deve succedere nel mercato, mi posiziono short, vendo, al prezzo di 100%, tanto so che deve fare il meno 16%, farà 80%. Nessuno se l'aspetta. Poi tolgo la posizione, chiamo gli amici degli amici, e qui, come ho detto anche nell'altro video, e come sempre farò, mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico. Se ne escono la marcegaglia, se ne escono dei soggetti che dicono abbiamo comprato delle azioni. E anche io, se avessi saputo che il giorno dopo rimbalzava, se avessi avuto la notizia che rimbalzava, mi mettevo long e prendevo un 15%, e 15 più 15 sono il 30%. In più, la signora Marcegaglia e quelli che hanno comprato le azioni hanno detto che hanno comprato, però non hanno detto. In questo momento, o meglio, oggi è sabato 21, ieri pomeriggio, la borsa ha avuto, con iniezioni, è stata mantenuta fino alla chiusura delle borse europee, in una maniera disgustosa, credetemi. Sono un operatore di borsa, mi occupo di queste cose. Ormai tutto è camuffato, perché non c'è più l'operatore che compra le Eni a 10, e c'è quell'altro che dice 10,1. No, ci sono delle macchinette, si chiamano HFT, High Frequency Trading, che sono tarate in una certa maniera. Fanno migliaia di operazioni giornaliere, però agiscono non solo con degli algoritmi, ma se io l'algoritmo l'ho imposto io, io sono l'umano, io sono l'umano. Se io so dove deve andare il mercato, io do dei falsi segnali, e questo magari sto parlando di una cosa tecnica, agli operatori di borsa che vengono buttati fuori e poi dopo va in una direzione, cioè il banco vince, il banco vince sempre. Il banco chi sono? La finanza. Questi gruppi del quale vi parlavo nel primo video, tutte queste persone che vi sto nominando, che stanno combinando casini e il giorno dopo si ravvedono e fanno dire l'esatto contrario e poi esce il tedesco che abbassa di nuovo i mercati, a pro di che cosa sono fatte? Se io manovro il mercato a mio piacimento, io vincerò sempre, quelli che perdono sono gli altri. E il raggiungimento di questa truffa qual è? Perché questa è una truffa. Oltre quella di destabilizzare i popoli e addirittura poi appropriarsi della gran parte delle ricchezze. Non ci dimentichiamo che il signor Monti ebbe a dire in una intervista, gli scappò, ma tanto gli italiani sono ricchi, hanno 5.000 miliardi sui conti correnti. Beh, non per questo, siccome io, mio padre, mia madre, tutta la razza hanno fatto i sacrifici, glieli dobbiamo dare a qualche d'uno, anzi, qui dobbiamo dimostrare il contrario, dobbiamo uscire le palle. Per chi non ce l'ha si facesse da parte. E quello che voglio dire alla gran parte, non pensate che se avete fatto un ragionamento, e dice, ma io tanto non ho niente in banca, non mi fottono niente. Beh, se si ferma l'economia, come si fermerà, come si sta fermando, come si fermerà, non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno perché nessuno avrà la possibilità di lucrare su qualche cosa, non si potranno pagare gli simeni, gli imprenditori dovranno licenziare, non troveranno interessante, già non trovano interessante fiscalmente lavorare in Italia. Immaginatevi in una situazione depressa. Tanti li stanno facendo lavorare con il telelavoro, al computer. Non è che questa è una strategia, perché tante aziende potranno pure fare un'offerta, faccio per esempio alle donne, dicendo, guarda, tu guadagnavi mille euro, te ne do 800, vuoi lavorare da casa? Io azienda risparmio 800 euro, risparmio 200 euro, scusatemi, ho la possibilità che non ho bisogno niente della scrivania, cosa perché tu avrai il tuo computer da casa, gestirai casa tua. Probabilmente conviene anche da un punto di vista del dipendente non muoversi di casa, in particolare per le donne, per esempio, per gestire la famiglia. Però la donna avrà poi 800 euro da spendere, da rimettere nel mercato, nel circuito produttivo. Per chi conosce l'economia, si fermerà tutto, le 800 euro saranno sufficienti a pagare il fitto, le bollette e via discorrendo. Per cui parlavo nel video precedente, l'elicottermonie non serve a niente. Se qualche politico si sta facendo venire questa idea, mi chiami, o chiami un esperto economista ancora meglio, ma io che sono un umile studioso e so il minimo indispensabile, so che cosa succederà. La cultura degli italiani, pensando a momenti di crisi successiva, possibile, quei soldi non li spenderanno. Per cui è inutile che tuo governo, tuo Stato, vai a fare l'elicoptermonie per dare il contentino perché domani vorrai essere rivotato nella maniera più assoluta. Tu devi pagare, non devi dare niente, devi dare solamente lo stretto indispensabile fino a che non trovate l'antivirus e dovete pagare voi tutte le bollette. I fitti si sospendono, li pagherete voi a quelli che ci hanno incontrati. Poi dopo ci avrete un conto aperto nei confronti di Martino. sapete che Martino se io gli ho pagato sei mesi 400 euro mi deve dare 2400 euro. Però è inutile che voi andate a creare dei meccanismi. Né dare delle carte di credito prepagate con queste cifre solo spendibili con le tasse. è una stupidaggine. È una stupidaggine. L'ha dimostrato il bonus Renzi per gli universitari, per i ragazzi. Quei soldi della cultura e quei soldi i ragazzi vanno e si vanno a comprare il telefonino perché purtroppo la gran parte delle persone soffre di noi italiani abbiamo sempre questi meccanismi contorti perché lo Stato esiste solo con pochi con i poveri. Poi non c'ha vive di burocrazia vive vive di assurdità non è un caso che tanti miei amici imprenditori si sono trasferiti all'estero perché perché all'estero incentivano l'imprenditoria la tassano nella maniera giusta e ti mettono in condizioni di lavorare di guadagnare perché l'imprenditore deve guadagnare deve pagare le tasse perché se io non guadagno non posso pagare le tasse e se le mie tasse devono andare nel bilancio statale però se io lavoro e la situazione è florida ho la possibilità di assumere delle persone quindi state attenti tutti questi soggetti sono gli utili inutili che servono per il raggiungimento dello scopo per fotterci completamente io poi stamattina come spesso faccio addirittura ho un un gruppo su whatsapp di amici che si occupano della mia stessa cosa gli mando degli articoli e loro mi dicono sempre ma tu sei sempre informato di tutte queste cose chi non si informa o dice ma io non ho tempo però poi ha il tempo di aprire facebook e di andarsi a fare l'amicizia perché senza nessun obiettivo o con degli obiettivi sessuali io sono molto curioso vi darò spesso delle notizie ripeto non solo da una parte politica vedo per esempio delle cose delle quali io rimango sconvolto libero dice libero Zingaretti aumenta lo stipendio al segretario da 90.000 a 120.000 motivandolo con le grandi capacità che ha 120.000 significa 10.000 euro al mese 10.000 euro al mese vi sembra questo è successo a febbraio vi sembra che in momento in cui c'erano i problemi e poi dopo gli è avvenuto pure il coronavirus a Zingaretti e c'era da fare questa cosa il fatto di ieri il fatto New York si ferma mille morti in Spagna in Inghilterra chiusi pub cinema perché Boris Johnson dopo aver fatto una stupidaggine e aver detto no noi creeremo l'immunità di gregge dopo qualche d'uno gliel'ha detto ha detto guarda veramente era il ministro della sanità che gli ha detto questo consiglio perché non credo che Johnson sappia che significa gestire una situazione del genere forse non lo sapeva nessun governante però il governante deve avere la capacità del giocatore di scacchi me l'ha insegnato un amico maestro di vita il giocatore di scacchi deve sapere che cosa fare se l'altro fa un'altra mossa se succede una cosa se non ha la visione di gioco come un giocatore di poker è inutile che si sieda al tavolo è inutile che si sieda a giocare a scacchi perderà sempre allora il governatore chi è? il diligente padre di famiglia che deve gestire delegato dai cittadini e noi non abbiamo delegato nessuno di questi signori beh questo padre che cosa sta facendo sta mettendo il cammino dei loro figli limpido o li sta facendo prostituire perché questa è prostituzione li sta inducendo alla prostituzione poi parleremo in un altro video di prostituzione ma questo è un momento particolare del corona il sussidiario oggi dice Germania porta l'euro al capolinea ma perché ne avevate dubbio avevate dubbio la Germania non se l'è mai perdonata di aver perso la seconda guerra mondiale però cosa che noi non stiamo facendo due volte dico due per chi non lo conosce questo dato ha ristrutturato il suo debito ci aveva un debito in mane sia nel nel dopoguerra che con la caduta del muro di Berlino nell'89 con la riunificazione della Germania ho dovuto ricordarmi della cosa poi è arrivato il signor Mortadella e mi assumo la responsabilità di quello che dico e ci ha svenduti dando un cambio di 1936 per euro mentre il Marco era 1 a 1 beh signori miei state iniziando ad aprire gli occhi poi vi dico un'altra cosa della quale sono rimasto non basito io io per questo Martino ha perso la pazienza il fatto nomine subito per Eni Enel Leonardo e forse anche poste italiane per chi non lo sa non sono solo private ci sono delle partecipazioni statali c'è Cassa Depositi e Prestiti sono delle società e questa è l'urgenza che noi abbiamo ieri c'è stato il picco leggevo ora non ce l'ho sotto mano 750 morti in un giorno ma stiamo scherzando ma avete capito che stiamo in guerra allora italiani tutti voi avete la necessità di avere 500 euro alla fine del mese per comprarvi che cosa per andarvi a comprare un maglione o una camicia io stesso sono stato alle svendite 20 giorni fa e mi sono comprato un cappotto un paio di scarpe e due pantaloni a quattro soldi perché aspetto le svendite per comprare le cose non so dove mettermi posso mettermi il maglione con il buco sotto l'ascella non succederà nulla tanto dobbiamo aspettare fra un mese e mezzo ci sarà il sole non ci abbiamo da comprarci niente ci abbiamo le cose dell'anno scorso vestitevi con le cose dell'anno scorso di che cosa avete bisogno da mangiare beh questo si ve lo deve dare lo Stato lo deve dare a tutti poi sono sono rimasto anche scandalizzato dalla 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 parte ecco se la stampa deve fare guardate come siamo manipolati se la stampa deve fare informazione la deve fare nel bene e nel male allora anche se ti vado in quel posto alla mia parte politica la devo dire il giornale solo ho trovato quest'articolo parlamentare di Lega e Fratelli d'Italia avversano parte dello stipendio di marzo per questo problema avete sentito Mattarella che ha detto la metà del mio stipendio che non so quanto sarà e non so che cosa se ne faccia che cosa se ne fa che li do a favore del coronavirus avete sentito quelle scusatemi il termine facce di merda che hanno richiesto i vitalizi gli arretrati tutti fatti ricorsi dall'avvocato Paniz che non ha avuto nessuno scandalo portando in punta di diritto tutte le cose fatte ad arte io faccio la legge perché io devo andare a mangiare su questa cosa ma stiamo scherzando nessuno che si è permesso di dire vabbè questo è un momento non è che noi hanno sospeso che rinunciamo a favore no perché questo è il problema del mondo l'avidità degli uomini affinto un posto per dire no ogni parte politica politica il governo partorisce una mini stretta lontana dalla richiesta delle regioni noi abbiamo votato per l'eliminazione delle province perché tutti questi pezzi di burocrazia in cui il comune ha dei problemi di bilancio la regione deve fare il signorotto e poi deve avere un casino in mane fatto apposta per mantenere tutto un establishment politico tutto un establishment di destra e di sinistra e poi vi dico per ultimo la stampa Berlusconi dona 10 milioni alla terapia intensiva beh che cosa fa Chef Rubio Chef Rubio che ha perso un'occasione per stare zitto al mio mondo di vedere le cose uno che è un grande comunicatore dal punto di vista televisivo simpatico romanaccio che fa la battuta mi piaceva mi piaceva molto no dice che tu hai dato 10 milioni e gli altri 999 mila e dispari ma fatemi capire ma per quale motivo ma tu hai dato qualche cosa ora che dobbiamo fare dobbiamo criminalizzare Berlusconi e io non ho mai votato per Berlusconi o quello dell'esse lunga capriotti caprotti una cosa del genere e che fanno delle donazioni ma stiamo scherzando veramente ultima e state attenti state attenti vogliono fare il mess se noi ci diciamo e questi che stanno in mezzo lo vogliono fare perché si sono già venduti e solo per un giorno non è andata a firmare la c'era la riunione lunedì della settimana scorsa scusate e mi sto schierando la voce non ho tosse e per la firma del mess è solo perché si è svolta questa riunione telematica solo perché solo una parte politica non mi vergogno a dirlo Giorgia Meloni dice voglio proprio vedere perché hanno messo nelle varie ed eventuali poi non potevano fare uno scandalo del genere vi dicevo l'ultimo mi sono sbagliato quello era il penultimo questo è l'ultimo il fatto quindi la finanza specula sulle tragedie quello del quale io vi sto parlando in questi due video ma veramente state state credendo ma ora ve ne state accorgendo che la finanza specula sulle tragedie lasciate stare questo momento che non possiamo dire tizio caio sempronio ma vi dico solo una cosa la famiglia Bin Laden due giorni prima la caduta delle torri gemelle la famiglia non Bin Laden Ladin due giorni prima della caduta delle torri gemelle ha venduto tutto e ha ricomprato dopo tre giorni triplicando il capitale perché se io so quello che deve succedere il ragionamento che facevo prima evidentemente manipolo le situazioni prendendo dieci coglioni non si offendano i musulmani perché quelli non erano quelli erano dei coglioni dei deficienti che si infilano su un aereo e vanno a fare cadere gli aerei sulle torri gemelle manipolo i mercati e creano una distruzione ma questa non è questa non è la caduta delle torri gemelle non è la crisi del 2008 Lehman Brothers assorbita in giorni è forse creata ad arte come dimostrato fra le altre cose nel film La Grande Scommessa questa è una tragedia dalla quale noi ne dobbiamo uscire più forti migliori dentro di prima un abbraccio a tutti se il video vi è piaciuto un abbraccio virtuale se il video vi è piaciuto condividetelo e mettetegli un like ma soprattutto condividetelo perché troveremo il sistema fra poco di fare un flashmob in qualche maniera per dire io come disse il signor Scalforo io non ci sto io non voglio essere preso in giro tanti saluti Martino Pazienza che l'ha persa